Sì? Salvini? Eccoti, ti aspettavo lo sai, dico quando è che vengono a citofonare? Bravo, complimenti, ti faccio un applauso, dai aspetta, clap clap clap, sentito, tu pensi che ho paura di voi dei centri sociali? Io ve li chiudo tutti, o magari sei anche la sardina, il pesciolino piccolo che viene a rompere i coglioni al pesce grosso, che vuoi sapere? Vieni, ti rispondo, voi sapete 49 milioni di euro? Ma gli italiani queste cose non interessano, sai cosa mi ha chiesto oggi la signora Maria di Casalecchio di Reno? Non lo sai, non lo sai perché tu ti occupi di banche, è vero? Ma secondo te, secondo te se avessi avuto 49 milioni di euro, ma non me ne sarei andato al mare, eh? Il mare, dai dillo, dillo, papete, mojito, lo sai perché la Lega ha il 72% di preferenza, lo sai? Me l'ha detto Pagnoncelli, lo sai perché? Perché noi siamo il popolo, perché il popolo si rivede in noi, e allora sì, anch'io vado ad ubriacarmi come una pigna al papete a guardare i culi delle cubiste, sì, sai cosa mi ha detto Peppino di Imbriatico? No, lo sai cosa mi ha chiesto Peppino di Imbriatico? Cos'è detto? I rubli russi, e non lo sai che in Italia esiste una cosa che si chiama magistratura? Bisogna passare e lavorare, no? E che, non ti fidi della magistratura italiana? Io invece mi fido, a me mi vogliono mandare dentro perché ho difeso l'Italia, e la crucca va in televisione a fare la show girl, capito? Questa è la magistratura politicizzata che va estirpata, va estirpata, eh ma a me non mi avranno mai, non mi avranno mai perché finché il popolo non legge, mi elegge, finché il popolo mi elegge, eh, io sarò il loro capitano, capito? Ma tu lo sai cosa chiede la signora Clelia di Brescello? Ah non lo sai, non lo sai perché tu pensi solo alle poltrone, lo senti il profumo di poltronificio, eh, dimmelo, chi ti manda? Il PD, Saviano, Floris, la Grubber, la Berlinguer, dimmi, chi ti manda? La pizzeria Bella Napoli. Pizzeria? Sono il ragazzo delle pizze. Ah, eeeh, piano terra, e interno di ciocchi. Grazie. Cerebro, bro, noi siamo cerebro, sto dentro della testa una pizza e molto fros, lei ti muove il culo se tu condividi il video, lei ti grita duro se tu condividi il video, io chiediamo loco, cerebro, loco, condividelo, loco, cerebro, sì sì, io chiediamo loco, 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 tali condividelo.